bella a tutti ragazzi adesso siamo in un nuovo video e c'è mia piccola sara natura di ciao di ciao ti sentito? ok adesso facciamo una partita sono fortissimo scherzo che gioco da due giorni oh non sono fortissimo intorno nooo nienta perchè? vai ok facciamo un'altra partita raga più di circa adesso ciao ciao sarellina ho visto? no 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 uauw bello arrivo ragazzi vado a chiudere la porta Grazie a tutti. Ok, ragazzi, abbiamo fatto 50. Ok, ciao, alla prossima partita. Credo che la faccio oggi. È bella!